un sopralluogo. Nel frattempo il laboratorio sarà interdetto a tutti gli studenti e al personale. I nostri database contengono dati riservati. Avete un mandato? Naturalmente. Bene. Da dove inizierete? Dai computer. Allora venite con me. Prego, siamo quasi arrivati. La seconda porta a destra. Grazie. Ora ci pensiamo noi. D'accordo. Buon lavoro. Quel ragazzo pare abbia accesso ad uno spazio riservato. Ah. Proviamo lì. Il codice dovrebbe essere 4144 secondo i ragazzi. Oh. Wow. Questo è un luogo decisamente high tech. Va bene. Fai le tue indagini nel cyberspazio. Io frugherò un po' qui intorno nel mondo reale. Mi ci vorrà un po' di tempo per riuscire ad accedere ai sistemi. Comincia allora. I ragazzi sono cambiati da quando andavo a scuola io. Sembra che il nostro amico Brandon sia nei guai. Hai trovato qualche cosa? Roypnall. Sono dentro. Wow. Ha messo sotto controllo l'intera scuola. Guarda. C'è dentro fino al collo. Videocamere spia, ha chiaraggio di documenti governativi, ha infranto molte leggi statali e federali. Aspetta, questo cos'è? Bingo. Che cos'hai trovato? Capelli. Una prova schiacciante. Tu continua, io vado a cercarlo.